Le soluzioni di GIA Workplace per gli store hanno l'obiettivo di aiutare i frontline worker nello svolgimento delle proprie attività. Innanzitutto valorizzare i propri skill, quindi le esperienze, collaborare meglio all'interno dello store come con altri store o con il quartier generale. Inoltre non dimentichiamoci il rapporto con i consumatori. È fondamentale fornire ai frontline worker strumenti che li assistano nel contatto con il cliente, nel capire quella che è la storia del cliente, quelle che sono le preferenze del cliente ed inoltre anticipare anche quelle che potrebbero essere delle scelte che il cliente potrebbe fare. Per ultimo poi la parte operativa, la parte che tipicamente è più anche rutinaria e delle volte noiosa, fornendo degli strumenti per lo svolgimento dei processi, delle procedure aziendali in maniera semplice, quindi conversazionale o in maniera self-service.